buonasera a tutti allora la mia attività beh diciamo che una passione che mi accompagna da sempre la musica e quindi ecco è una passione che ho fin da piccola quindi fin dai primi concorsi di canto da piccolissima e tutto il mio percorso le scuole le lezioni eccetera una cosa che insomma ho coltivato la passione che è cresciuta negli anni sempre di più e quindi diciamo fino a diventare veramente un motivo non so come dire la mia vita in un certo senso ecco la passione più grande della mia vita sicuramente come nasce il tuo nome d'arte perché io lo dico in spagnolo e prende il gita è appunto quindi traducendolo in spagnolo e prende da noi si chiama gitana è più bello rispetto all'italiano che in realtà viene dato in modo un po improprio quel nome come nasce nasce dal fatto che sono stata spesso nella mia vita negli anni diciamo in giro dalla città all'altra per ragioni musicali e quindi ho viaggiato molto mi sono spostata molto per la musica appunto e mi sono spesso sentita una gitarana della musica in qualche modo quindi da lì diciamo è nata l'idea di chiamarmi gipsy Gitana lì appunto e quindi poi comunque è un mondo che in qualche modo mi piace bello sento affine quindi ecco essendo sempre in movimento da una città all'altra ho detto perché non gitana della musica e diciamo fiorucci perché il mio cognome e ho voluto anche mantenere il mio cognome quindi diventa gipsy fiorucci allora passiamo al nuovo lavoro è primo lavoro un bel singolo, abbiamo sentito il bel singolo, un bellissimo video, ma tutto correlato all'uscita imminente dell'album che poi è stato un po' posticipato dovuto al problema del coronavirus. No, allora, l'album è uscito, un passo indietro, il primo singolo importante, firmato anche da me, quindi scritto da me insieme ad un altro autore, è uscito praticamente a maggio scorso, ed è Serial Lover, che comunque si trova anche nel mio canale YouTube, si trova comunque in tutti gli store digitali, da Spotify, iTunes, dappertutto, e quindi Serial Lover è il primo singolo, che è contenuto anche lui dentro l'album. Poi il 18 novembre scorso è uscito Specchi di Luce, che è il singolo proprio che ha anticipato l'album, perché poi l'album a dicembre è uscito, quindi diciamo il singolo a novembre, Specchi di Luce a novembre, e il 10 dicembre è uscito in tutti gli store digitali, protagonista del finale, che è il mio primo album da cantautrice, il mio primo vero album, quindi un passo molto importante, una tappa molto importante del mio percorso artistico, sicuramente prodotto appunto dalla Saluca Sound, che è la mia etichetta discografica in Bologna, e quindi ecco il mio discografico, Manuel Auteri, e dal produttore artistico che ha curato appunto tutti gli arrangiamenti del progetto, Renato Droghetti, che è un collaboratore di Dolibattaglia, di Vasco, Urreri, ha collaborato anche con Paolo Aturci, con Paolo Meneguzzi, quindi diciamo un produttore artistico importante. Abbiamo visto in video, girato mediamente, non si fanno in bianco e nero, però che riporta un pochettino agli stili di un rock che ultimamente non si è visto, stile di Valenge, tu comunque adesso hai fatto un giro, un pochettino di musica, è un rock che comunque sembra un po' più rock, un po' più delicato, quel delicato, quel rock, soft rock, però molto bello. No, diciamo che sì, è un pop rock alla fine, con tutte le varie sfumature che ci possono essere, ci sono all'interno dell'album sicuramente varie sfumature e generi di rock, quindi andiamo, ci sono dei brani che sono più energici e più rock appunto, e dei brani che sono più su pop, però comunque la mia vena è rock, comunque la mia è un'anima rock sicuramente, quindi molto affine ad altri cantautori, anche italiani, come ci possono essere la cantautrice toscana appunto, la Nannini, come ci può essere altri cantautori, insomma comunque la mia è una vena rock, comunque sì, al di là di tutto. Quindi il videoclip è stato girato nel Monte Argentario, quindi nella bellissima Toscana, in una spiaggia molto suggestiva, molto bella, vicino a Porto Santo Stefano, ecco. E poi in bianco e nero è stata un'idea appunto del regista, Lorenzo Lombardi, appunto regista del video, che appunto ha avuto quest'idea di girarlo in bianco e nero, perché volevamo dare proprio al video un'atmosfera senza tempo, e quindi cosa meglio del bianco e nero potesse rappresentare appunto un'atmosfera senza tempo, perché era quello che richiedeva appunto il video. Poi ci sono stati comunque altri cantanti, altri cantautori che hanno usato il bianco e nero nel loro video, sempre di più sta tornando questa cosa, anche nell'ultimo anno, negli ultimi due anni, ho visto diversi video di appunto diversi artisti, sempre in bianco e nero, perché diciamo che non muore mai, no? È comunque uno stile che rimane sempre vivo in qualche modo. Allora a questo punto, intanto passiamo un pochettino al futuro, perché la quarantena finirà. Qual è il tuo obiettivo e quali sono i nuovi lavori futuri e soprattutto gli obiettivi futuri? Ci auguriamo ovviamente che questo momento difficile per il nostro appunto paese, per tutta la nazione, ma per tutto il mondo, finisca presto, quindi soprattutto per le persone ovviamente che stanno soffrendo o che stanno male. Questa cosa anche a noi artisti, come anche a tutti gli altri, a tutti i settori, diciamo, ma anche a noi artisti, ha creato ovviamente dei grandi blocchi, delle grandi, delle brusche fermate, diciamo così. Io ero in piena promozione dell'album, con una presentazione dell'album a Bologna, importante, che doveva esserci a marzo, che ovviamente è stata saltata, rinviata, e tante altre cose. Il mio singolo, il secondo singolo estratto dell'album, che appunto dovremo girare il video, che doveva già essere stato girato, ma appunto per questo discorso, questa emergenza sanitaria, ha subito un ritardo, un arresto, ci siamo dovuti fermare, non abbiamo potuto girare appunto il videoclip, che sarà girato appena possibile, appena questa emergenza finirà, e quindi uscirà il mio secondo singolo estratto, in cui poi ci sarà, seguirà tutta una promozione radiofonica, una promozione stampa e quant'altro. Quindi ecco, abbiamo dovuto soltanto rimandare, perché purtroppo è così. Ho capito che tu stai a Bologna, dove a Bologna in realtà c'è tanta musica, noi abbiamo diversi amici a Bologna, tra cui Franz Campi, Pierfrancesco Campi, e tanti altri personaggi come L.B. and the Garden House, ma proprio si vede che questo mondo, girando e girando l'Italia, poi alla fine per la musica bisogna tornare a Bologna. Eh sì, sì, Bologna è veramente comunque un punto di riferimento importante per la musica in Italia, quindi sicuramente è un centro che è concentrato di artisti, anche addetti ai lavori, di etichette discografiche, cioè comunque è molto importante come punto in Italia. e quindi speriamo soltanto che questa emergenza passi presto e che si possa tornare. Io nel frattempo comunque non è che sono quelle mani in mano, ovviamente, e quindi mi sto dedicando alla mia arte, sto comunque studiando, approfondendo tante cose, sto scrivendo, ho scritto anche dei brani, dei testi, ho scritto delle cose in questo periodo, quindi che poi a tempo debito usciranno, quindi mi sto comunque facendo tantissime cose interessanti e quindi ecco, sto veramente nutriendo tanto il mio lato artistico e quindi nutriendo la mia anima in qualche modo. Abbiamo visto che c'è una bombetta, oppure un cappello più un po' stile slash O il cilindro Perché ricordavo un pochettino È un cilindro perché io amo i cilindri, è una mia passione, i cappelli, soprattutto i cilindri in particolar modo li amo tantissimo e ne ho tantissimi tipi, di tanti modelli, tanti colori, quindi mi piace come stile, come accessorio, ecco. Ha sempre un qualcosa di magico, il cilindro è misterioso, è come se in qualche modo potesse far uscire delle sorprese dal cappello di tanto in tanto, quindi è un po' magico, no? Se vogliamo, come simbolo. E quindi il cilindro mi piace in particolar modo perché appunto ha questo qualcosa di magico e di misterioso. A questo punto, come in una trasmissione televisiva si diceva, Margiullo diceva poniti la domanda e datti una risposta, secondo te quale sarebbe la tua domanda? No, allora, la mia domanda... Boh, cosa dico, non so, adesso... Quello che posso dire è che posso consigliare ai nostri ascoltatori che ci stanno ascoltando, che ci stanno vedendo, di ascoltare, andarsi ad ascoltare il mio disco, protagonista del finale, uscito il 10 dicembre, in tutti gli store digitali, quindi di andare su Spotify, di andare su iTunes, su Amazon, dove preferiscono, per appunto ascoltare il mio disco. E magari anche iscrivetevi al mio canale, perché no? Il mio canale YouTube, Marta Fiorucci Gipsi, iscrivetevi, perché lì trovate i miei videoclip, videoclip di Serial Lover, videoclip di Specchi di Luce, i miei due singoli, e a breve, speriamo prima possibile, il videoclip del secondo singolo estratto. Speriamo prima possibile. Incrociamo le dita. Allora, dando prima la penultima domanda, e poi ci fai saluti. Allora, guarda, questo è un po' più semplice. In cinque parole, descriviti. Guarda, io sicuramente sono una persona determinata, sensibile, originale, forse, per certi aspetti, misteriosa, passionale. Perfetto, ti sei descritta benissimo. Allora, dando, noi ti salutiamo, ci diamo appuntamento, poi, quando finalmente ci sarà tutto chiuso, quando inizierai il tuo tour di promozione, e ci fai un saluto ai nostri amici, e qui ci salutiamo per darci un riavederci. Io vi aspetto per una intervista, appunto, quando uscirà il mio nuovo singolo, e quando appunto ci saranno queste novità importanti, per una bellissima intervista di nuovo con voi, e posso ricordare la mia pagina Facebook, dove appunto i nostri ascoltatori mi possono seguire, Gipsy Fiorucci, è la mia pagina Facebook, è la pagina artista, quindi vi raccomando, mettete mi piace, così almeno resterete aggiornati, su tutti i prossimi eventi, sul prossimo singolo in uscita, su tutte le cose nuove che ci saranno in futuro, e niente, il mio canale YouTube Marta Fiorucci Gipsy, e Instagram Marta Fiorucci, trattino basso Gipsy. Questi sono i miei canali, diciamo, per restare in contatto con me, per seguirmi. Benissimo! Ciao!